No, 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 c'è giusto, c'è giusto! Ancora una notte all'insegna della Malamovida in provincia di Pistoia. A Montecatini, davanti ad alcuni locali, in Viale 4 Novembre, è scoppiata una rissa che ha coinvolto numerosi giovani, tra calci, pugni, spinte e lanci di bottiglia. Un fine settimana da dimenticare anche nel centro di Pistoia, in piazza Giovanni XXIII, dove un ristorante è stato preso d'assalto dai vandali che hanno completamente distrutto il dehors del locale, spaccando ombrelloni e fioriere. Residenti e gestori delle attività commerciali, esasperati dal ripetersi di questi episodi, lanciano un appello alle istituzioni.